Un grande autore piemontese, il grande Eugenio del Sarto, quindi dedicato a tutti voi, Pietra di Luni. Eccola qua. Grazie. 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 Io sono quel che sono, e a volte vivo lì sopra di me, non per questo io volevo far male a te. Grazie. 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 Io sono quel che sono, e a volte vivo lì sopra di me, non per questo io volevo far male a te. Grazie. 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 Grazie.